Un luogo tetro, selvaggio e dimenticato da secoli. Un angolo di mondo che mai essere umano aveva osato violare, dove si c'erano spaventosi misteri. Nelle profondità della terra, la natura ha creato una delle sue più sconvolgenti avverrazioni. La quiete è giunta al termine. La creatura dormiente è stata risvegliata. Un centro di ricerca costruito per contenere la natura e il suo potere. L'incosciente tentativo dell'uomo di catturare la bestia che abita le oscure profondità della terra. Gli scienziati brancolano nel buio. Il mistero si impittisce attorno all'inspiegabile fenomeno. Poi una notte, il primo attacco. L'inizio di una lunga serie di inspiegabili accadimenti. Il centro di ricerca non è più un uomo sicuro. Costantemente minacciato dall'inarrestabile furia della creatura. Le autorità hanno posto l'area sotto sequestra. Certi misteri è meglio che rimangano sepolti per sempre. Ma dietro gli alti cancelli, la caccia continua. Solo pochissimi temerari decidono di sfidare la propria sorte nel tentativo di catturare il dominatore della palute. Ma pagheranno a caro prezzo la loro audacia. Qualcetta è una modcia. Qualcetta è una modcia. ca